Mona Lisa, Dominic Faik alle 8 e 26 minuti su Crystal Radio, giovedì 28 settembre è arrivato il momento dei nostri ospiti e quindi quest'oggi abbiamo chi? L'onore a te di presentarlo. Roberto Biscardini per parlare di Navigli perché è presidente di associazione di Aprile Navigli oltre che ex senatore, è un curriculum lunghissimo. Biscardini tenta l'impresa dove Leonardo fallì. Leonardo ci mise le mani diciamo, non è che fallì perché Navigli c'erano già prima di Leonardo quindi ci mise un po' le mani, però è un'impresa che possiamo realizzare, io sono convinto che alla fine la realizzeremo nonostante le difficoltà, nonostante le incertezze che perdurano alla fine si vincerà questa battaglia perché è nella coscienza dei milanesi l'idea di riavere i Navigli che hanno perduto nel 1929 ed è nella coscienza dei milanesi l'idea che una città più pulita è anche una città con l'acqua, perché noi parliamo sempre di verde ma parliamo pochissimo di blu e quindi penso che tutte le città, a parte le città che vivono waterfront è già sull'acqua, però in generale c'è un grande investimento nelle città del mondo, non solo quelle europee ma anche quelle americane o addirittura quelle asiatiche, in cui si investe sull'acqua e sulla riscoperta dei fiumi, sulla riscoperta dei canali, i navigli come forma nuova anche di benessere, per esempio il turismo, ma non solo il turismo di massa, anche il potere mettere una canola in acqua e fare un percorso sui propri davidi. Cose che oltretutto non sono così fantastica, magorica o lontana dalla realtà, perché i moni e lunghi sappiamo quanto ad esempio va in canola già sul suo naviglio che c'è ancora aperto, sul suo piccolo tratto davanti alla San Cristoforo, insomma di canola se ne vedono spesso. Perché poi i milanesi, ieri ero un convegno su questo argomento, ho visto che c'era molto consenso su questo tema della Milano blu e verde, i milanesi non sanno che aprire gli otto chilometri di cui molti hanno perso la memoria, cioè non sanno neanche di cosa stiamo parlando. Ricordiamo quindi questi chilometri quali sono? Infatti per sempre ricordarlo, gli otto chilometri chiusi sono quelli che vanno dalla Cassina del Pomme, cioè quindi in alto di via Merchiore e Gioia, stiamo parlando quindi del naviglio marchesano, quello che arriva dall'Adda, dal lago di Co e percorre tutto via Merchiore e Gioia, poi entra in via San Marco, gira a sinistra quando c'è la chiesa, percorre tutta la cerchia che si chiama ancora, cerchia dei navigli, non a caso, via Pontaccio, via Francesco e Sforza, via Santa Sofia, Mollino delle Armi e arriva in Darsela. Quindi questi otto chilometri maledetti che sono stati chiusi appunto a partire dal 1928 in poi, però connettono 150 chilometri di navigli lombardi. Cioè quindi noi disporremmo, avendo messo a regime il sistema e riqualificando il sistema perché sia ancora un sistema navigabile, disporremmo di una delle più interessanti reti navigabili di Europa, perché non è che 150 chilometri sono pochi. Certo, se uno pensa all'Olanda probabilmente arriviamo a 2.000 chilometri, o la Francia avendo il canal du Midi arriviamo a 3.000, però è una struttura abbastanza interessante, molto interessante. Peraltro io sostengo, e lo sanno anche gli europei con quali abbiamo contatti, che noi disponiamo degli navigi più belli d'Europa. Ma ha detto una parola giusta, europei, perché in realtà quando lei va a Milano a raccontare questa storia la guardano come un matto. Sì. Quando è super al confine dicono, ah vabbè, che idea è, lo facciamo sempre, lo fanno tutti. Lo fanno tutti. Lo fanno tutti. Come fa a vivere questa dicotomia? Eh perché ci siamo, abbiamo metabolizzato una ferita in qualche modo, e abbiamo rimosso questa questione, che è stata una ferita oggettivamente nel paesaggio milanese, però quando uno appunto, adesso citiamo l'ultima città che ha fatto nuovi navidi, Utrecht, che è una delle più interessanti città olandesi, non solo mantiene bene i navidi che ha, ma ne fa di nuovi. Cioè quindi siamo come ai tempi appunto di Leonardo, cioè si progettano nuovi navidi, perché l'idea di avere più acqua, poi... Ma poi lo sappiamo, Milano è una città d'acqua, galleggiamo sopra questa falda, abbiamo di acqua, quindi insomma... Poi appunto si tratta di un controsenso, il fatto di dedicare così tanta attenzione al green, al verde, e poi non prendere neanche in considerazione... Io però devo fare l'avvocato del diavolo, perché tutti quelli che dicono, vabbè, vabbè, i scardini li abbiamo chiusi perché facevano schifo questi navidi, puzzavano, c'erano le pantegane, c'erano... e lei mi le vuole rimettere, come facciamo con le pantegane in via San Marco, così... Intanto se fosse vera questa teoria dovremmo chiudere quelli che ci sono, dovremmo chiudere il naviglio grande, il naviglio pavese, il naviglio martesano... E nessuno osa dire una cosa del genere... E vediamo che spesso le dicono questo, e lei come risponde appunto? Prima tutto questo, poi... La seconda cosa è che è una balla, quella che fossero sporchi. Il naviglio si è stato chiuso, era proprio sostenuto da una propaganda politica falsa, per altre ragioni, per ragioni urbanistiche sostanzialmente. Avevamo alle spalle, alla fine del 1890-1880, un piano regolatore che giustamente dal suo punto di vista intuiva un bisogno di modernizzazione della città, intuiva che la città avrebbe avuto le macchine e che bisognava realizzare strade, e si è fatto un piano regolatore con tante strade, tante arterie nuove, poi si si è accorti che era più facile chiudere i navigli e farci sopra una strada, come appunto parlavamo prima, la cerchia dei navigli, che non buttare giù la città per fare strade nuove. La ragione, quindi, fondamentale della chiusura dei navigli è la realizzazione di un'arteria stradale al confine, diciamo, del centro storico, come nuova arteria. Serviva a fare una circombalizzazione, quindi... Una specie di circombalizzazione, allora... Diciamo, lo spazio c'era, ma vale, facciamo prima a mettere il cemento sopra che a buttare giù, infatti, altre... Poi c'è stata una grande operazione, che oggi conosciamo bene in altre forme, anche a Milano, che era una grande operazione immobiliare, cioè nel senso che la chiusura dei navigli ha consentito la trasformazione di tutta quella cintura che, se uno percorre la cerchia dei navigli sulla 94, diciamo, percorrendola nel senso della 94, cioè a fianco destro della strada, cioè verso il centro storico, non verso l'esterno, si rende conto che tutta quella cortina di case, parlavamo prima, fate bene ai fratelli, Francesco Sforza, Santa Sofia, eccetera, sono tutte case degli altri 30, 40, 50, tutte abbastanza molto belle, tutte di prestigio, tutte di marmo, marmi bianchi, con pochi accessi, non sono case popolari, naturalmente, e sono case costruite sul sedime dei magazzini, delle cosiddette sciostre, si chiamavano allora, che erano a fianco del naviglio, cioè quelli che servivano per recapitare i materiali che arrivavano, le merci che arrivavano sui navigli. Quindi è stata una grande operazione di ristrutturazione immobiliare di quella fascia, che poi all'interno c'è la via Atterraggio, in un caso si chiama Atterraggio, perché le merci arrivavano con l'acqua e atterravano dietro. I nomi delle vie a Milano danno sempre un significato, perché ricordiamoci sempre Via Laghetto, perché lì c'era un lago. C'era il famoso laghetto, praticamente dove c'è la statale. Però che serviva per portare i marmi. Infatti, infatti. Continuiamo a parlare di navigli, continuiamo a farlo però dopo una canzone, perché insomma su Crystal Radio c'è anche la musica, ovviamente. E ovviamente ringrazio l'Ufficio Programmazione con cui ho fatto adesso una trattativa, perché insomma parliamo di navigli. E allora ovviamente è il momento di Miley Cyrus con River. Eh? Mi capito che roba che fa. Grazie all'Ufficio Programmazione. Crystal Radio 835 331 78 535 555. Scriveteci. Oggi si parla di navigli. Miley Cyrus con River e Rivers sono i fiumi di Milano, no? I grandi navigli di Milano. Ricordiamoci sempre, i grandi tre navigli di Milano, perché tutti si ricordano solo due, ma c'è il grande naviglio della Martesana anche. Poi in realtà ci sarebbero anche altri navigli, perché poi c'è quello di Bereguardo, che fa tanto, tanto. Insomma, tutto sono 150 chilometri. La somma. La somma di tutti i navigli fa 150 chilometri e basterebbero aggiungerci 8 chilometri per rendere tutta questa rete collegata perfettamente. E se vogliamo sognare? Ecco. Se lo possiamo sognare. Sogniamo, sogniamo, sogniamo. Sogniamo, sogniamo. Sogniamo, sogniamo. Con noi, ricordiamo Roberto Biscardini, sogniamo. Potremmo andare oltre, perché qual è il nostro progetto se parliamo di navigazione? Perché non ha senso riaprire i navigli se non c'è l'obiettivo chiaro di renderli navigabili. Ok, chiaro. Cioè non ci interessa, un mio professore dell'università di architettura mi diceva noi non dobbiamo mettere il pizzo alle mutande. Rinde perfettamente l'idea. Cioè non dobbiamo mettere il pizzo alla città, come dire, dobbiamo fare una cosa strutturale. La cosa strutturale è la navigabilità. La navigabilità con i navigli riaperti è una navigabilità che conta qualche migliaia di chilometri, perché i navigli vengono uno dal lago di Como, Martesana, l'altro, Naviglio Grande, dal lago Maggiore. Il punto più alto sono rispettivamente Colico sul lago Maggiore e... 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 Guarda che qui la giugazione finisce male. E se è l'ora, è l'ora... Cioè diciamo la Valtellina, la Valtellina sul lago di Como. Allora queste due punti alti, non c'è dei laghi, se attraversassero, quando avremo i navigli riqualificati, Milano, poi attraverso il Naviglio Pavea poi c'è il Ticino, il Po e l'Adriatico quindi l'itinerario vero è Colico Zagabria no, Colico Venezia e Locarno Venezia Locarno Venezia e Colico Venezia sono i due itinerari da ricostituire Lorenzo ti interrompo perché al 331 7853555 ci scrive il nostro ascoltatore che salutiamo che si firma Ercotenna che ci dice però siete forti come avrebbe detto Celentano quindi è rimasto legato alla nostra Milano grazie a Ercotenna che ci saluta siete forti è forte Biscardini io le faccio una domanda molto concreta non sulle Pantegane possiamo rispondere anche sulle Pantegane una curiosità, qualora domani si decidesse di rendere praticabile questo progetto quanto tempo servirebbe e più o meno quali sarebbero i contro gli svantaggi io penso per esempio appunto una concentrazione immobiliare un aumento dei prezzi esatto tutto per dire quello intanto viviamo in una città oggi c'è una lettera di un cittadino sul Corriere della Sera che ho letto ogni giorno ce n'è una di questo tipo di lettere dove i milanesi non si ritrovano più molto con questa città questo è il tema infatti c'è un piccolo slogan cioè i milanesi senza Milano noi stiamo conoscendo delle trasformazioni fortissime che in qualche modo non sono parte di quella cultura non dico milanese ma nemmeno europea della città una volta avremmo detto a misura d'uomo cioè di una città vivibile molto accogliente di tutti oggi rischiamo di dire che è una città di ricchi sostanzialmente che espelle le popolazioni più disagiate più deboli un po' una sorta di modello londinese dove al centro abbiamo i grattacieli ma intorno non c'è più niente i valori immobiliari sono alti la gente deve andare a Vimercate col consolo e ricordiamoci sempre spacciandoci come città universitaria che questo è sempre un discorso che è sullo sfondo di qualsiasi cosa città universitaria che oggi però si dice negli studentati c'è un posto libero su dieci domande quindi c'è tutta questa problematica quindi stiamo conoscendo delle trasformazioni urbane che secondo me non ci appartengono in qualche modo non ci appartengono e i prezzi aumentano per questo non perché realizziamo i navigli aumentano perché anzi sento dire qualche assessore che addirittura è contento del fatto che escano da Milano i poveri e arrivino a Milano i ricchi ma che brutta roba brutta roba ed è così è successo negli ultimi dieci anni sono circa 200.000 le persone che sono uscite e 200.000 le persone che sono entrate questo porta un altro problema che sono sempre meno milanesi che vivono a Milano e quindi la memoria storica per esempio parlare di navigli spesse volte è difficile perché parliamo a persone che arrivano da Singapore ma cosa vuoi che non sappiano dei navigli di Milano oppure dei giocatori di calcio che prendiamo no? ah con noi ne abbiamo tanti ne abbiamo tanti eccetera ecco quindi allora io non credo che i navigli siano o possono essere la causa di un eventuale aumento dei valori immobiliari i navigli certo noi non li stiamo riapriendo per riavere i navigli ottocenteschi che non ci saranno più stiamo riapriendo per parlare delle nuove generazioni però anche per ridare anima e forma alla città cioè ormai ci sono delle parole che sono insopportabili a me sono sentiamo sostenibilità no non ci siamo messi d'accordo la prima ora ho fatto una filippica su che si dice adesso vogliono fare lo stadio sostenibile come fa uno stadio sostenibile grazie seconda parola insopportabile rigenerazione urbana io la voglio ospite è fisso si la mettiamo ospite è fisso lo vogliamo fisso allora che cavolo di rigenerazione urbana è quella di costruire i grattacieli là dove c'erano i navigli peraltro perché sul via vecchio regioio c'erano i navigli c'erano un altro paesaggio c'era tutto una roba diversa c'era il famoso bosco di gioia che vuol dire di egli o le storie tese memoria quindi per esempio io sono convinto che riaprire i navigli vuol dire dare una forma alla città e la rigenerazione vera in questo senso la parola potrebbe anche essere appropriata a una città che prende forma intorno ai navigli per esempio noi andiamo a pedonalizzare delle stupidaggini noi andiamo a pedonalizzare dei fazzoletti di città quando se noi realizzassimo i navigli inevitabilmente si realizza un processo di trasformazione per esempio di estensione delle aree pubbliche estensione delle aree pedonali e connessione con le aree verdi per esempio quando diciamo verde e blu non è solo un problema come dire simbolico con il povero Empio Malara che oggi non c'è più abbiamo pensato cent'anni fa no cent'anni no perché non sono così vecchi va bene che ha una certa diciamo un curriculum lungo come aveva detto all'inizio signoriti adesso si dice una certa signoriti ecco però pensavamo anche noi al parco lineare che dal lago di Comoda andavo a Pavia correndo in fianco ai navidi allora questo ha un senso cioè dove il verde non è quanti albero e pianto magari a Gorgonzola perché così respiriamo meglio da Milano che anche questa è un'altra fezzeria basta non dico più che è niente comunque continuiamo continuiamo a parlare adesso è il momento della musica ho voluto un'altra trattativa abbiamo fatto con noi ho voluto mettere si mi vedete distratto perché sto trattando con l'ufficio programmazione perché diciamo insomma la città bisogna di essere si rigenerata ma poi bisogna stare attenti alle parole la città è sempre bella o meno così si dice così si pensa ma a volta in me dietro questa bellezza poi si nascondono cose strane e lo diceva anche il signor G in una canzone famosissima che voglio mettere questa mattina com'è bella la città sempre di più dice Giorgio Gaber la città è sempre più piena di scale mobili macchine auto forse però finalmente si può fare un piccolo passo indietro o meglio in realtà è un passo avanti forse no Viscardini è un passo avanti come dicevamo prima perseguito da tante città che interpretano il benessere come un qualcosa che il cittadino può usufruire in fondo quando io dico riaprire i navigli è un segno che va nella direzione della città di tutti perché lo vediamo sui navigli ci vanno tutti l'uso la fruizione come di un parco il parco è un parco di tutti è l'unica cosa pubblica che non può essere sottratta alla generalità dei cittadini nel senso dei navigli nel caso dei navigli ci sono tanti fattori appunto vederli vedere l'acqua che scorre oltre a tante ricadute poi ambientali tecniche positive per esempio la caduta del livello di calore cioè per la presenza dell'acqua che scorrendo abbassa il livello del calore la possibilità di fare un grande piano come noi stiamo pensando per l'installazione di pompe di calore per la riduzione per il riscaldamento e il raffreddamento degli edifici mediante appunto l'acqua perché l'acqua potrebbe essere prelevata dalle falde e poi buttata nei navigli poi recentemente girava su internet ricordo perfettamente l'immagine della città di Milano vista dall'alto con i colori diversi per temperature percepite ed era evidente che dove c'è verde e dove possibilmente c'è anche blu si vedevano proprio i navigli praticamente disegnati in verde perché la temperatura è bassa e i vari parchi il resto era una macchia rossa e bordeaux non c'è dubbio e così come tanti altri tipi di ricadute di carattere ambientale ma poi per esempio fare i navigli vuol dire realizzare conche perché la navigazione devi superare il livello dell'acqua da monte rispetto a valle ricordiamo che in Lombardia su tutta la rete dei 150 chilometri ci sono 54 conche la maggioranza ci sono ancora ma non sono attive cioè non sono funzionanti 4 o 5 vanno rifatte perché non ci sono più perché sono quelle che erano nel percorso degli 8 chilometri che sono stati chiusi ecco per esempio la conca che uno dice ah cacchio si può dire si può dire la conca che è un fastidio per chi naviga perché si perde del tempo poi non è assolutamente vero perché i cittadini che navigano sanno benissimo quanto è bello fare le concate si dice così ma anche chi sta fuori dall'acqua quando uno arriva a Parigi e va sul canale San Marten la prima cosa che fa guarda la barca che va su e giù dentro la conca quindi è un altro modo di vivere la città intanto quando così teorizzo la città lenta ma la città lenta non è andare velocissimi col monopattino mi piacciono sempre le stoccate leggere bisogna leggere tra le righe tra le onde in questo caso quando Biscardini fa la sua in maniera molto veloce perché siamo quasi in chiusura in maniera molto veloce ricordiamo Biscardini che sabato 30 settembre all'interno della Green Week ci sarà una vostra iniziativa di associazione di riaprire navigli quindi per una città più blu e più green è un'iniziativa molto popolare piazzeremo tavoli un gazebo al parco delle basiliche all'altezza di via Molino delle Armi ci saranno dei giovani che tenteranno di parlare con i cittadini faranno anche la compilazione di questionari cosa ne pensi cosa ne pensi cosa vuoi cosa non vuoi e cercheremo scusate niente e cercheremo di spiegare il progetto della riapertura dei navidi importantissimo andate ad ascoltarlo perché davvero può sembrare per alcuni una follia per altri in realtà anzi è necessario ma in realtà è proprio veramente interessante è un tema molto interessante e molto semplice anche perché i navidi diciamo l'ultima cosa i navidi ci sono sono ancora sotto questo non vuol dire ricostruiamo i navidi ma riapriamo perché sono lì sotto l'acqua per esempio il via Melchiorgio c'è ancora l'acqua basterebbe andare lì noi tre col piccone e il navidio lo tiriamo su invece di andare col piccone a tirare su le ferviste ciclabili in corso a Buenos Aires magari potremmo e dall'altra parte i navidi ci sono ancora ma sono riempiti di sabbi chiarissimo Biscardini io la ringrazio come sempre è bellissimo quando viene qua perché ci fa sognare ma ci fa sognare con un po' di realismo anche un po' di ironia quello sì scritturiamolo come sempre invece di chiamare Mimbo Balduccio abbiamo Biscardini scusa possiamo garantire lui bene allora grazie mille davvero Biscardini grazie a voi ricordiamo c'è il sito del sito riaprinavidi.it facebook riaprinavidi instagram riaprinavidi riaprinavidi ovunque è sempre perfetto allora grazie mille a Roberto Biscardini continuiamo però ragazzi continuiamo stiamo per chiudere caro il mio Lossi Somasieri e sì sì e quindi anzi così parte subito la nostra sigla finale ciao 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 Grazie a tutti.